Buongiorno a tutti e buon ferragosto, sono nel quartiere di San Rocco, fra poche ore giungerà qui sua eminenza il cardinal Bertone e troverà questa piazza in questo modo, bellissima, pulita, però fatto qualche passo ecco la situazione che si presenta dinanzi agli occhi. Sono tornati i vandali ed ecco cosa hanno fatto, speriamo che sua eminenza non transita queste parti, ecco questo è lo stato in cui i lanzichenecchi lasciano la piazza dopo le loro nottate brave, nonostante l'impegno della polizia, della polizia locale, del sindaco e di quant'altro, questo è dal vostro inviato speciale a piazza San Rocco.